Nick! Nick! Oh, Nick! Gli ululatori notturni non sono lupi, ma fiori tossici! Qualcuno ha preso di mira i predatori e li fa diventare selvaggi! Wow, davvero interessante. Aspetta, dai aspetta, io so che non mi perdonerai mai e non ti biasimo. No, neanche io mi perdonerei. Sono stata spregevole e irresponsabile e meschina. Ma i predatori non devono soffrire per colpa mia. Devo rimediare ai miei errori. Ma senza di te non posso farlo. E una volta finito, puoi tornare a odiarmi. E a me sta bene, perché sono stata una amica orribile e ti ho ferito. E tu, tu puoi andartene via sapendo di avere sempre avuto ragione. È vero, sono soltanto una coniglietta ottusa. È vero, sono soltanto una coniglietta ottusa. È vero, sono soltanto una coniglietta ottusa. Tranquilla, carotina, te lo farò cancellare. Tra 48 ore. Dai, vieni qui. Ok, oh, voi coniglietti siete così emotivi. Avanti, fa un bel respiro. Cos'è? Vorresti rubare la penna? È solo una tattica? Mi stai pestando la coda? Ai, ai, ai. Ah, scusa. Grazie.